Come on, come on! Benissimo, ci vediamo al Festival Internazionale della Poesia di Milano. Mi chiamo Alberto Figliolia, forse poco importante o forse no. Sarò presente con questa magnifica congerie di poeti e di poesia, anch'io, il 12 e il 13 maggio. Si proporranno un sacco di iniziative aperte alla città, alla comunità. Quindi si diffonderà la poesia all'universo mondo, alla città. La poesia non ha preclusioni di sorta. La poesia ordina il mondo in una maniera libera e cosciente. Per quanto mi riguarda, sono presente nell'incontro in cui si parla di carcere e poesia e in una poetry slam, ma anche in altri eventi, ma non solo come artefice. Anche essere spettatori di altri eventi vuol dire essere artefici e partefici. Vogliamo fare rete, siamo una comunità. I poeti sono immersi nel fluido quotidiano, metropolitano della vita e ci attendiamo che la gente venga a noi come noi andiamo alla gente.